Ciao, oggi preparo una nuova ricetta, annellini siciliani in pasta sfoglia. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti. 400 g di annellini siciliani o annelletti, 150 g di gorgonzola, 150 g di scamorza, ma va bene qualsiasi altro formaggio, 30 g di parmigiano, del sugo di pomodoro, preparato precedentemente con un soffritto di carote, cipolla e sedano, e due rotoli di pasta sfoglia. Io ho preso queste che sono rotonde perché ho la teglia ovale. Adesso vado a cuocere gli annellini che devono essere al dente. Intanto che cuoce la pasta sono andata a fare a pezzetti i formaggi. In una teglia vado a mettere il primo rotolo di pasta sfoglia. Con una forchetta vado a bucare la pasta sfoglia. Così. Scolata la pasta al dente, vado a metterla nella pasta sfoglia. Poi vado ad aggiungere la salsa di pomodoro. E la vado a mescolare. Vado ad aggiungere i formaggi. Vado ad aggiungere il parmigiano. Vado a tirare giù leggermente la pasta sfoglia. E per ultimo vado a ricoprire con l'altra pasta sfoglia. E anche qui vado a bucare con la forchetta la pasta sfoglia. E mettiamo in forno a 200 gradi per 30 minuti. Ecco gli anellini pronti. Buon appetito! Ciao! Ci vediamo alla prossima ricetta!